Al via la 62esima edizione del Taormina Film Fest. Dall'11 al 18 giugno è prevista una parata di stelle che comincerà con la serata inaugurale al Teatro Antico. La Kermess incontra anche il sociale. Oltre 300 senza tetto provenienti da tutta la Sicilia, infatti, assisteranno alla proiezione del film e gli invisibili di cui Richard Gere, presidente onorario della Rassegna, è protagonista. I circa 300 senza tetto siederanno in prima fila al festival, l'ha dichiarato il direttore generale del Taormina Film Fest, Tiziana Rocca, durante la conferenza stampa per presentare il festival. Vogliamo dare risalto a questo problema e speriamo che il governo possa impegnarsi per dare delle soluzioni. Il direttore Rocca ha anche annunciato che a Taormina il ministro del lavoro Giuliano Poletti e l'ambasciatore americano John Phillips firmeranno con la Federazione dei Senza di Moro un protocollo per impegnarsi per il progetto Housing First e per la campagna Hashtag Homeless Zero affinché non ci siano più persone senza dimora. A Richard Gere, inoltre, verrà anche consegnato il riconoscimento Taormina Humanitarian Award, premi istituito nel 2012 per sottolineare l'importanza delle attività nel sociale promosse da persone famose. I fondi della serata, inoltre, saranno devoluti alla Federazione Italiana Organismi per le Persone senza Dimora. Il Cistro Onulus ha anche organizzato un galà di beneficenza al Monte di Pietà di Messina con alcuni dei protagonisti del Taormina Film Fest, ha aggiunto Michael Curatolo, direttore delle relazioni esterne e degli eventi speciali Taormina Arte per raccogliere fondi per una casa famiglia di Messina. Fra i temi trattati, anche l'emergenza clima, la violenza sulle donne con la proiezione di un film e una mostra di foto con delle donne in Africa che hanno subito vessazioni. Infine, con l'Accademia Kronos è stato lanciato un concorso dove premieremo il film più interessante.